Tradimento in arrivo? Facciamoci almeno tre domande come pronto soccorso prima di passare all'azione. Ma prima ancora di dirti quali sono queste tre domande, ti chiedo di ascoltare queste due brevissime parentesi di approfondimento. La prima riguarda il tradimento. Il 70% delle persone riferisce di aver vissuto l'esperienza del tradimento come traditore e poco meno di un terzo riferisce di considerare il tradimento qualcosa che può avvenire normalmente all'interno della relazione di coppia. Quindi stiamo parlando di un fenomeno estremamente diffuso all'interno delle relazioni, specialmente quelle di lunga durata. La questione è che a volte la persona che la pensa in un modo e quella che la pensa in un altro stanno all'interno della stessa relazione di coppia. Quindi uno concepisce il tradimento e l'altra no, o lei concepisce il tradimento e lui no. E questo ovviamente può dare origine a diversi problemi, come potrai immaginare, e può darsi che tu li abbia già vissuti nel presente come nel passato. La questione qual è? Che esiste un patto di fiducia all'interno della relazione di coppia e spesso questo patto di fiducia si basa sul concetto di monogamia, cioè quindi rapporti esclusivi. Quando certi aspetti vengono violati, come la questione della monogamia, viene a mancare la fiducia ed è quello l'elemento che poi crea un problema nella relazione. Andiamo a fare la seconda brevissima parentesi. L'attrazione nei confronti di qualcuno esterno alla coppia è estremamente normale, normalissima, va benissimo, non è niente di strano. Quindi è normale che tu possa dire wow quanto è bella lei, wow quanto è bello lui, ok? Lo fanno tutti, succede a tutti ed è normalissimo. Quella di non tradire è una scelta come quella di tradire. Andiamo a farci queste tre domande che riguardano il tradimento. Domanda numero uno. Innanzitutto che cosa sta succedendo? Questo mio coinvolgimento nei confronti di una persona esterna alla relazione di coppia. Che cos'è? È qualcosa che viene da delusioni, conflitti magari ripetuti all'interno della relazione. Perché molto spesso è così. Noi abbiamo dei problemi all'interno della relazione di coppia e quello che facciamo è di andare a trovare una soddisfazione esterna, in qualche modo una distrazione esterna. In qualche modo ci sentiamo quasi autorizzati a farlo perché quella persona non ci capisce. Quando in realtà la soluzione quale sarebbe quella di affrontare il problema, di fronteggiarlo e quindi di avere un canale di comunicazione aperto con il partner, con la partner, su argomenti importanti che possono portarci a dare uno sguardo all'esterno un pochino più che interessato, ok? Questo è un elemento importantissimo e molte coppie falliscono su questo. Secondo aspetto e seconda domanda importantissima da farsi è cioè quali sono i bisogni, le esigenze, qual è la soddisfazione che mi sta dando questo coinvolgimento con questa persona esterna alla relazione di coppia? Questo è un aspetto fondamentale, cioè io devo capire quali sono i bisogni, le esigenze che sta soddisfacendo questo mio coinvolgimento perché? Perché molto spesso, soprattutto in una relazione di lunga durata, noi non soddisfiamo più certe esigenze o certi bisogni, sono passati in secondo piano, magari per i figli, per il mutuo, per due tipi di lavoro e due orari di lavoro completamente incompatibili, sono cose che succedono e quindi può capitare, come può capitare molto più frequentemente, che crescendo col tempo cambiano i bisogni, cambiano le esigenze e di conseguenza dobbiamo rinnovare il patto all'interno della coppia per soddisfare quei nuovi bisogni, quelle nuove esigenze, perché siamo cambiati e cambiare è una costante, è normale il cambiamento. Molte coppie non si fanno questa domanda, nessuno dei due e quindi che succede? Succede che poi trovano qualcuno all'esterno che in qualche modo a loro dire, si avvicina un po' di più a quei bisogni, spesso anche un po' per idealizzazione della novità e quindi si lasciano andare a un certo tipo di esperienze. Ecco, questo è un aspetto molto importante perché tu potresti sfruttare quella esperienza come modo per conoscere i tuoi bisogni, le tue esigenze e andare a parlare all'interno della relazione e vedere se è possibile soddisfarle. Terzo elemento, terza domanda che è necessario fare, quali sono le conseguenze che avrebbe il continuare a flertare con quella persona? Questa è una domanda che non si fanno le persone, però poi ne subiscono le conseguenze. Quindi è molto importante che tu ti renda conto di quali siano queste conseguenze, a cosa andresti incontro. Le persone non vogliono pensarci e dicono di lasciarsi trasportare per passione. In realtà si stanno lasciando trasportare per immaturità, per mancanza di riflessione. Quindi quello che io ti chiedo di fare è proprio di fare una riflessione su questi tre elementi. Quindi ricapitolando, prima domanda, allora questo coinvolgimento sta nascendo a causa di conflitti, delusioni ripetute all'interno della relazione? Seconda domanda, questo coinvolgimento dice qualcosa su bisogni, esigenze nuovi, emersi o sottasciuti o sottovalutati nella mia relazione e quindi mi dà delle informazioni nuove da portare all'interno della mia relazione di coppia? Terza domanda, quali sono le conseguenze che avrà il continuare a flertare sulla mia vita e sulla mia relazione? Ecco perché quest'ultima domanda è la più importante? Perché dovresti rispondere prima alle prime due, dopodiché valutare la terza e decidere se sei disposto ad affrontare quelle conseguenze. Cosa fanno le persone? Le persone non si fanno mai le prime due domande, raramente la terza, nella maggior parte dei casi non si fanno nessuna domanda, ok? Tu evita di essere come tutti, tu sei una persona animata dal buon senso.